Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Dopo 70 anni di vita insieme, questo Natale è un doloroso capitolo per Lino Banfi, il primo senza sua moglie Lucia. Lino e Lucia convolarono a nozze nel marzo del 1962, ma il loro legame era radicato anni prima. Le vacanze natalizie sono ora un peso per Lino, poiché a febbraio di quest'anno la donna della sua vita è venuta a mancare. Il vuoto è insopportabile, tanto che ha deciso di viaggiare in California con il figlio Walter. Nell'affrontare la nomina, Lino Banfi, dagli occhi lucidi, sospira e riflette nostalgicamente sui momenti trascorsi insieme. Il sentimento grandissimo che lo legava a sua moglie è difficile da esprimere a parole, come ha dichiarato durante un'intervista. Anche senza di lei, Lino avverte la presenza di Lucia e si sente sicuro che lei lo ascolti, persino quando fa qualche parolaccia. Sposati dagli anni 60, si erano conosciuti nel lontano 1952, quando erano ancora due giovani minorenni. Ora, Lino si ritrova a riflettere sull'amore condiviso, reduci da un capitolo della vita assegnato dalla sua assenza. Grazie per aver guardato il video iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.